il pavilion di genova nell'ocean live park di alicante una cartolina delle bellezze delle eccellenze di genova e della liguria nel porto di alicante così come in tutte le tappe di the ocean race l'ingresso è subito una magnifica cartolina da bocca d'asse per accogliere gli ospiti che potranno poi immergersi in un percorso dai caruggi di genova all'atrio in cui ci saranno tutti gli eventi gli incontri per genova the right place che porterà a tuffarsi nelle eccellenze della liguria un salto alle cinque terre il porto antico di genova le botteghe storiche la sala per i meeting saranno tanti gli appuntamenti e gli incontri all'insegna della cultura dell'economia soprattutto quella legata al mare per genova sempre di più capitale mondiale della nautica e della vela pavilion di 150 metri quadrati che da levante a ponente ci porta anche nelle terre d'eccellenza della montanbaica finale ligure dell'arrampicata a noli tante occasioni per conoscere le cartoline più belle della nostra terra come la piazzetta di portofino un pavilion che in ogni tappa da alicante a cape town dai taggiai a newport permetterà di dare un'immagine straordinaria di genova nel mondo a